Tragedia nel Pordenonese, un elicottero monoposto è precipitato sul greto del Meduna e il pilota, l'imprenditore bellunese Igor Schiocchett, 45 anni di trichiana, è morto sul colpo. Resti umani ritrovati nella rotonda di Via della Chimica a Marghera, sono state avviate le analisi di laboratorio, al momento tutte le ipotesi investigative aperte. Adriano Armelin, 83enne massacrato nella sua abitazione a Pieve di Soligo, lo scorso marzo fu colpito con inaudita violenza per 29 volte, ora il 36enne marocchino arrestato, viene contestato l'omicidio volontario. Il caso Cospito, scritte a favore della liberazione dell'anarchico sui muri di Treviso, il sindaco promette che saranno ripuliti, torna alla mente il K3. Scontri con polizia e carabinieri nel novembre del 2022 a Padova, obbligo di dimora e di firma per 7 militanti dei centri sociali, sequestrate anche 3 pistole Soft Air. Sono stati condannati a 6 anni di reclusione ciascuno 5 ex calciatori della Virtus Verona, imputati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ventenne, avvenne nel gennaio 2020. Era atteso da 20 anni, è arrivato oggi il via libera della sovrintendenza, il collegamento sciistico tra il comelico e la pusteria esulta la montagna bellunese. Buonasera, eccoci in diretta edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Prima di inoltrarci nella cronaca di questa sera, vi ricordo il sondaggio che vi sottoponiamo in vista della prima serata dedicata alla politica di Antenna 3 Ring. Zelensky a Sanremo, siete d'accordo dunque con la presenza del presidente ucraino per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere invece di no 0422 1626 690 e come sempre poi la vostra opinione, l'esito del sondaggio ve lo riveleremo questa sera in onda a Ring. Tragedia allora nel Pordenonese, lo avete sentito, un piccolo elicottero monoposto è precipitato sul greto del Meduna e il pilota, l'imprenditore bellunese Igor Schiocchett, 45 anni, originario di Tricchiana, è morto purtroppo sul colpo. Lo schianto prima di pranzo ancora senza un perché, Igor Schiocchett, 45 anni di Tricchiana di Borgoval Belluna è morto sul colpo precipitando a bordo del suo elicottero un CH7C1 monoposto sul greto del Meduna, nella zona di Sequals, in provincia di Pordenone. Un testimone ha riferito di avere visto il velivolo roteare in modo anomalo e poi sparire. Davanti a Igor Schiocchett volava l'amico di una vita, Alessandro Bogo, consigliere dell'aeroclub di Belluno. Erano partiti assieme, stamattina sembra per andare a ritirare il monoposto di Igor, un ultraleggero tra i più venduti e i più sicuri, e probabilmente, una volta recuperato il mezzo, stavano rientrando a Belluno. Bogo, che potrebbe aver visto precipitare l'amico, è atterrato con il suo velivolo a poca distanza, davanti ai suoi occhi, solo rottami. L'allerta all'aeroporto di Aviano ha mobilitato i soccorsi. L'area dello schianto è stata delimitata, la raccolta di elementi utili alle indagini immediata, con i carabinieri nella zona, anche i tecnici dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, oltre ai vigili del fuoco e al personale dell'emergenza sanitaria regionale. La notizia della morte di Igor Schiocchetta, titolare di un'azienda di pitture e verniciature a Tricchiana, ha sconvolto la comunità bellunese. Igor era molto conosciuto per la sua professione e soprattutto per la sua passione per il volo. Aveva conseguito più abilitazioni. Volava con il deltaplano, con l'aliante, con il suo elicottero. Pilota espertissimo, con una profonda conoscenza del territorio e di tutto l'arco alpino, dice di lui Davide Zampieri, vicepresidente dell'aeroclub di Belluno. Ma Igor Schiocchetta amava anche i motori la sua ultima gara lo scorso novembre al 39esimo rally di Bassano. Schiocchetta lascia due figli e attorno a loro si sono stretti familiari e amici. E poi Marghera invece, perché sono state avviate le analisi di laboratorio, che dovrebbero offrire le prime risposte sui resti umani ritrovati casualmente, al momento tutte le ipotesi investigative rimangono aperte. I rami che erano stati tagliati per essere portati via sono rimasti. Qui la zona è stata completamente transennata. Questo è lo scenario in cui è stato ritrovato ieri pomeriggio. Sono stati ritrovati i resti di un cadavere del quale ancora non si è in grado di risalire all'identità. Le prime risposte, quelle basilari, per stabilire almeno il sesso, l'età e il momento della morte, potranno arrivare solamente dal risultato delle analisi di laboratorio su quel che rimaneva di uno scheletro umano e dei suoi vestiti, ritrovati casualmente da degli operai impiegati a tagliare degli arbusti nei pressi della rotonda di Via della Chimica a Marghera. Esiti che andranno poi confrontati con le liste delle persone scomparse per cercare di dare un nome e un cognome alla vittima. Al momento tutte le strade rimangono aperte. Via della Chimica è una lunghissima arteria che per chilometri percorre questa zona di Porto Marghera fatta di una fila interminabile di capannoni, un'arteria percorsa da un traffico infinito di mezzi pesanti. Via della Chimica non è certo il luogo in cui si viene a fare una passeggiata, non ci sono neanche i marciapiedi, ci sono solamente, per così dire, migliaia e migliaia di container e tantissimi, capannone industriali. Lo stato di decomposizione in cui si trovavano le ossa, i vestiti, un paio di scarpe inducono a pensare che il corpo fosse lì da parecchio tempo. Come ci sia arrivato e rimasto così a lungo, in mezzo a rifiuti e vegetazione selvaggia, se si sia trattato di una morte accidentale o violenta, rimane un mistero. Poco dopo l'allerta degli operai, sul luogo del ritrovamento sono arrivate la polizia locale e la polizia scientifica della Questura, assieme ai vigili del fuoco che hanno illuminato l'area. Primo passo di un'indagine che al momento rimane piena di punti interrogativi. Ricorderete il caso di Adriano Armelin, l'83enne massacrato nella sua abitazione a Pieve di Soligo nel Trevigiano. Fu colpito con inaudita violenza per ben 29 volte. Il 36enne marocchino ritenuto responsabile del delitto dovrà rispondere ora di omicidio volontario aggravato. Questo è un punto nero nella nostra comunità, nel senso che quella porta che una volta era viva oggi è spenta e chiusa, quindi è un vuoto. Tutto è rimasto così, fermo, come se il tempo non fosse passato, fermo in quel tragico giorno quando Adriano Armelin fu massacrato. L'indagato, Mohamed Boumarouan, il marocchino di 36 anni arrestato dai carabinieri, prima accusato di omicidio pretentenzionale, ora dovrà rispondere ad un reato più grave, quello di omicidio volontario aggravato dalla finalità di rapina ed aver agito con crudeltà. La verità porta drammaticamente alla consapevolezza che questa persona ha agito consapevolmente o comunque lo ha fatto con una ferrettezza ancora più grave di quello che gli è stato imputato in un primo momento e quindi credo sia giusto proprio per quello che ha tolto che possa pagare con la propria reclusione. L'anziano in pensione la sera del 25 marzo fu aggredito nella sua abitazione in via Schiratte a Pieve di Soligo e colpito violentemente in varie parti del corpo, in particolare al tronco e al capo, con calci, pugni e vari oggetti contundenti per ben 29 volte. Decisiva per la nuova imputazione il risultato dell'autopsia e di riscontri del RIS dei carabinieri di Parma che si sono occupati delle indagini col nucleo investigativo e militari della compagnia di Vittorio Veneto. Ad incastrare il 36enne non solo i colpi inferti ma anche le tracce, in particolare sangue trovate nell'abitazione dell'83enne. Il pubblico ministero Giulio Caprarola ha notificato in carcere una nuova ordinanza restrittiva firmata dal GIP. Giovedì 2 febbraio il 36enne comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari Cristian Vettoruzzo per l'interrogatorio di garanzia in cui dovrà difendersi da queste ultime contestazioni. Credo che questo caso sia esemplare per come sono state condotte le indagini, quindi ringrazio veramente le forze dell'ordine e tutti i magistrati che ci stanno lavorando per arrivare alla verità di ciò che è accaduto per un giusto giudizio. Una comunità spiega il sindaco che ha subito una ferita impossibile da rimarginare. La mancanza di Adiriano Armellin è una cosa che manca, cioè la sua presenza manca a tutta la comunità, la presenza quotidiana in questa piazza, agli amici e a tutte le persone che lo conoscevano. Ora invece il femminicidio di una quarantena in Moldava a Spinea, anche questo un caso purtroppo noto, sono state depositate in questi giorni le conclusioni con le ultime scioccanti rivelazioni emerse dall'autopsia. 85. Tante sono state le coltellate inflitte a Lilia Patraniel, la quarantenne Moldava, uccisa lo scorso a settembre nella sua abitazione a Spinea dalla furia omicida del compagno Alexandru Janosi, 35enne romeno. È emerso dall'autopsia due i colpi mortali che hanno raggiunto la donna tra il torace e l'addome e le numerose ferite poi sul resto del corpo. Colpi inferti con una violenza tale fino a quasi a staccarle un braccio. Per Janosi, in carcere dal giorno del delitto, si prospetta ora un processo davanti alla Corte d'Assise per omicidio aggravato dal vincolo della convivenza. Reato per cui non è ammesso il rito abbreviato con lo sconto di un terzo della pena. Il suo difensore probabilmente chiederà alla Corte una perizia psichiatrica. Tutto quella sera sarebbe stato scatenato da un litigio. Sembra che la donna volesse lasciare il compagno violento come avrebbe amesso lui stesso nell'ultimo interrogatorio. Voltiamo pagina. Il disegno di legge sull'autonomia differenziata sarà presentato in Consiglio dei Ministri giovedì. Questo l'esito del pre-consiglio di oggi in cui viene spiegato è stata esaminata la bozza di testo diffusa ieri sera ed è stato deciso qualche ritocco. Si tratterà di una giornata storica, afferma in una nota il presidente del Veneto Luca Zaia. Non solo si darà risposta a chi come il Veneto da anni ha chiesto di avviare questo progetto, sancito nella nostra regione dal referendum del 2017, ma sarà finalmente l'occasione per dar corso ai dettami dei padri costituenti, così Zaia che solo ieri a Venezia aveva affrontato la questione con la ministra delle riforme casellati. Ora il caso Cospito, scritto a favore della liberazione dell'anarchico sui muri del centro di Treviso. Il sindaco Conte promette che saranno ripuliti. Torna alla mente l'attentato al K3 contro la Lega. Massima attenzione alla condizione di salute del detenuto, ma è impensabile che lo Stato ceda perché lo stesso detenuto pone o vorrebbe porre lo Stato in condizione di cedere. Mentre il ministro della giustizia, il trevigiano Carlo Nordio, ribadisce che per l'anarchico Alfredo Cospito non ci sarà una modifica del carcere duro, malgrado lo sciopero della fame intrapreso, in città proprio gli anarchici imbrattano i muri del centro per chiederne la liberazione, prese di mira via Ortazzo e Cale del Podestà. Hanno colpito soprattutto per arroganza e maleducazione e mancanza di rispetto nei confronti della comunità trevigiana. Ovviamente adesso provvederemo a sistemare questi imbrattamenti. Io spero che attraverso le videocamere di sorveglianza si possa anche stabilire chi è stato l'autore di queste scritte perché è giusto che chi fa questi gesti, indipendentemente dal processo o no, poi venga responsabilizzato e paghi danni. Sul piano politico è ancora fresca la ferita causata dall'attentato alla sede provinciale della Lega Trevigiana al K3 di Villorba nell'agosto del 2018 per la quale è stato condannato a 28 anni di reclusione l'anarchico spagnolo Juan Antonio Sorroce Fernandez. Il secondo ordigno lasciato sul pianerottolo esterno avrebbe potuto ferire chiunque fosse uscito sulla scala d'emergenza e tra i militanti presenti quella sera a una riunione c'era l'assessore trevigiano Alessandro Manera. Secondo me non è molto da scherzare, bisognerebbe capire anche chi sovvenziona queste persone, quali partiti politici ne possono essere affini perché in passato non ci sono state condanne così nette di qualche parte politica e secondo me o di qualche esponente politico è stato molto grave o comunque è stata una coabitazione esterna che non è mai piaciuta e io sono sempre per condannare qualsiasi tipo di reato nei confronti dei partiti politici e nei confronti delle persone. Scontri con polizia e carabinieri nel novembre del 2022 a Padova, misure nei confronti di sette militanti dei centri sociali, sequestrate anche tre pistole soft air. I poliziotti della Digos e i carabinieri di Padova hanno bussato all'alba, denunce e perquisizioni nei confronti di esponenti dei gruppi antagonisti di tutto il Veneto. Sette persone sono state denunciate per violenza e resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali ad appartenenti alle forze dell'ordine. Gli episodi risalgono allo scorso novembre e sono avvenuti tutti a Padova. Il primo nella notte del 5 novembre quando una macchina dei carabinieri è stata cerchiata da una quarantina di persone del centro sociale Pedro che volevano impedire il controllo di un ragazzo in via Ticino. Il giovane era stato fermato dai carabinieri che lo volevano identificare. Ha iniziato ad urlare per richiamare gli attivisti del Pedro che sono accorsi con i volti coperti, accerchiando l'auto e aggredendo i militari. Appena quattro giorni dopo i militanti dei centri sociali invece sono stati protagonisti anche di violenti scontri con la polizia durante uno sgombero di un alloggio popolare in via delle Melette, zona Palestro e poi sotto la sede dell'Ater di Padova. Visti gli episodi ravvicinati, la procura aveva deciso così di aprire un'indagine che ha portato oggi alle sette misure nei confronti di esponenti di spicco dell'area antagonista padovana, veneziana e trevigiana. Per tutti l'obbligo della firma inquestura, per quattro di loro anche l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Eseguite dalla Digos di Padova e dai carabinieri anche 13 perquisizioni in abitazioni a Padova, Vicenza, Venezia e Treviso a carico di altrettante persone, tutte indagate. Durante le perquisizioni la Digos ha sequestrato da un attivista tre pistole tipo soft air senza dispositivi di sicurezza. Ed è in corso da parte proprio degli attivisti dei centri sociali un presidio, ve lo mostriamo con il materiale che ci ha inviato la redazione di Padova, un presidio davanti al comune di Padova, a cui stanno partecipando un centinaio di persone proprio per contestare queste misure eseguite nelle ultime ore e anche per inneggiare la liberazione dell'anarchico cospito di cui abbiamo parlato poco fa. Fin qui dunque il presidio di Padova. E ora andiamo a Verona perché sono stati condannati a sei anni di reclusione ciascuno oltre alle interdizioni di legge i cinque ex calciatori della società Virtus Verona imputati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa ventenne avvenuta nel gennaio del 2020. Gli imputati erano compagni di squadra all'epoca dei fatti, la società scaligera li aveva sospesi e quindi ceduti ad altre squadre. In sede processuale il PM ha preso atto del risarcimento nei confronti della vittima che aveva poi ritirato la Costituzione di parte civile e la querela ma ha ritenuto che ciò non escludesse la responsabilità penale dei giovani chiedendo e ottenendo la pena di sei anni per ognuno. Dei cinque imputati Gianni Manfrini risulta militare ancora nella Virtus Verona hanno annunciato ricorso in appello. Ricordo che Santiago Visentin che milita nel Cittadella è imputato a Belluno in un altro processo sempre per stupro di gruppo. Un colpo pianificato nei minimi dettagli è quello messo a segno la scorsa notte invece a Romano Dezzelino dove una banda formata da cinque persone è penetrata in una fabbrica d'argento. Sentiamo. Questa notte abbiamo avuto questa sorpresa un furto che non ci aspettavamo perché comunque in 35 anni è la prima volta che ci succede è un furto preparato ed attuato con molta destrezza in tempi velocissimi. 12 minuti in tutto da l'1.45 a l'1.57 della scorsa notte. In azione alla Livio R.S.P.A. di Romano Dezzelino è entrata una banda formata da cinque persone ripresa dalle telecamere di videosorveglianza che dopo aver bloccato le quattro strade d'accesso alla fabbrica specializzata nella lavorazione dell'argento è riuscita a penetrare all'interno. Un colpo studiato nei minimi dettagli e attentamente preparato. In via Rivoltella all'altezza del sottopasso posizionate quattro balle di fieno, due auto in via Torino, le altre vie bloccate da legna e da un attrezzo agricolo. E poi, dopo aver tagliato l'inferiata della recinzione, l'ingresso nel perimetro dell'azienda. Poi hanno rotto una finestra e si sono calati nel reparto produzione raccattando catene che erano in fase di lavorazione oppure che erano pronte alle successive fasi di lavorazione nei vari punti dell'azienda. E sono fuggiti in tempi rapidissimi. Sì, il tutto è avvenuto nel giro di poco più di 10 minuti, 12 minuti all'incirca. Sembravano cronometrati, come si vede proprio nei film, con l'orologio, sapendo quali fossero i tempi di reazione sia della vigilanza che delle forze dell'ordine. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto si sono precipitati gli addetti della vigilanza, i carabinieri e successivamente gli amministratori. In fabbrica, nel frattempo, i ladri svuotavano secchi, carrelli, contenitori, riuscendo a fuggire con un quintale d'argento, ma la stima è approssimativa ancora per un valore di 150 mila euro. Un'azienda protetta è la Livior, spiega l'amministratore Andrea Eberton. Utilizziamo, oltre sistemi di videosorveglianza, anche sistemi di protezione a onde radar e anche a microonde, quindi non avevamo proprio paura che ci potesse succedere una cosa del genere. La procura dei minori ha aperto un fascicolo sull'aggressione di tre tredicenni al centro commerciale Iper City di Albignasego da parte di una banda di bulle minorenni ai nostri microfoni. Il papà ha aggredito nel tentativo di proteggere la figlia. Appena sono arrivato lì, perché ho capito che stava succedendo qualche cosa, sono sceso dall'auto e mi sono precipitato, ho cercato di aprirmi, di farmi largo in mezzo a questo drappello. Ho visto, io non ho visto la paura, ho visto il terrore negli occhi di una ragazza, tutto il trucco colato sul viso, le lacrime. E un'altra ragazza, che viene erroneamente definita coetanea, perché qui non sono coetanee, sono più grandi di loro, che le teneva un braccio sul collo e con l'altro le tirava i capelli. Questa è la scena che gli si è parata davanti, appena arrivato nel parcheggio del centro commerciale. Il racconto è del papà intervenuto sabato pomeriggio all'Iper City di Albignasego per salvare la figlia, tredicenne, picchiata da un branco di bulle. Lui e la moglie, a loro volta, sono stati aggrediti e minacciati. Mi sono ritrovato per terra, io so solo che ho sentito calci, pugni, mi sono rialzato. Ero con mia moglie, mia moglie è stata aggredita, penso da un'amica di questa ragazza, ha preso un ceffone in pieno viso. La ragazza, mimando con un gesto, con l'alluce sotto la gola, gli ha detto io sono albanese, io so chi sei, so dove abiti e ti taglio la gola o ti faccio tagliare la gola. Per tutelare la figlia, appena tredicenne, non mostra il volto, ma il papà ci tiene a raccontare la gravità di quanto è accaduto sabato, perché si è trovato nel mezzo di una spedizione punitiva, organizzata per vendicare la denuncia per estorsione. E cosa ancora più grave, a guardare quell'aggressione, c'erano una cinquantina di ragazzi, spettatori inermi di una violenza, senza scrupoli. Erano lì a guardare, nessuno ha chiamato aiuto. Questa non è una rissa, questa non è una rissa che è comunque sbagliatissima, che non esiste, dove i ragazzi decidono. Questa era un'aggressione fatta da ragazze più grandi di 2-3 anni, 5 e altri 30 ragazzi, contro 3 ragazze in difese. Questa si chiama aggressione. Il messaggio che voglio mandare ai genitori dei ragazzi che erano presenti è ma voi genitori sapete dove sono i vostri figli, sapete che gente frequentano, sapete che cosa fanno. Perché io ritengo che essere genitori è la cosa più difficile del mondo. Essere genitori non vuol dire fare figli, vuol dire seguire i figli, vuol dire educarli. Quattro ragazze minorenni, soccorse dai sanitari per abuso di alcol, una addirittura ricoverata al termine di un concerto pugno di ferro del questore di Vicenza nei confronti di una discoteca di Bassano. Sono stati già posti sigilli all'IVA di contraccaggion basso a Bassano a decidere la sospensione della licenza e l'immediata chiusura del locale il questore di Vicenza Paolo Sartori. Un provvedimento che avrà una durata di 15 giorni che arriva dopo i gravi fatti accaduti nel fine settimana. Erano tra le mille persone che partecipavano al concerto di un noto trapper nato a Vicenza ma di cittadinanza statunitense, le giovanissime, tutte minorenni, soccorse prima dal servizio d'ordine dell'evento, poi dal 118 completamente ubriache. L'episodio più grave è intorno alle 2.30 del mattino quando una ragazza è stata trovata nei bagni del locale priva di sensi a causa dell'alcol assunto. Tanto da dover essere ricoverati in osservazione al pronto soccorso del San Bassiano. Non solo. Prima del concerto all'esterno del LIVA le forze dell'ordine avevano controllato un'auto in arrivo da Genova con a bordo 4 pregiudicati tra i 21 e i 23 anni specializzati nel compiere furti con strappo e rapine con lo spray urticante all'interno di discoteche. Per i 4 è scattato l'allontanamento immediato con foglio di via dal comune di Bassano per 3 anni. Precisi accertamenti avevano poi permesso alle forze dell'ordine di trovare lavoratori non in regola all'interno del LIVA e la mancanza di un registratore di cassa fiscale. Un locale già noto alle forze dell'ordine, il LIVA, per aggressioni e una maxirissa con accoltellamento alla gola di un giovane, avvenuta la notte di Hallow in 2021 nel parcheggio. Una situazione che ha portato il Consiglio di quartiere di San Michele a inviare un esposto firmato da 139 cittadini raggiunti al telefono. Per ora i referenti del LIVA preferiscono non parlare. Rocambolesco in seguimento nel Padovano, un ricercato algerino scappa dalla polizia che lo stava seguendo dal confine con la Slovenia. Esplosi alcuni colpi di pistola. Ha tentato di investire gli agenti di polizia che lo volevano arrestare. Non si è fermato nemmeno quando i poliziotti hanno esploso alcuni colpi di pistola. È ancora in fuga un giovane algerino ricercato in Francia per reati in materia di stupefacenti. Questa mattina lo straniero di 23 anni era stato seguito e pedinato dai poliziotti della questura di Gorizia fino al parcheggio dell'Ikea a Padova. Nei suoi confronti infatti pende un mandato di cattura emesso dalle autorità francesi. Ma quando i poliziotti hanno intimato all'uomo di fermarsi, lui ha accelerato rischiando di investire gli agenti che hanno così esploso alcuni colpi di pistola. È iniziato un lungo inseguimento. Poco dopo l'algerino è stato rintracciato a Cadoneghe mentre percorreva la strada regionale 308. La squadra mobile di Padova è intervenuta per dare supporto ai colleghi goriziani. Le ricerche del fuggitivo sono state estese a tutta la provincia di Padova grazie anche alle pattuglie dei carabinieri. Ma per il momento lo straniero sembra essersi dileguato nel nulla. Altra fuga stavolta per le vie del centro storico di Vicenza. Ha speronato l'auto della polizia locale, denunciato e sanzionato un 64enne. È stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento di auto di servizio, oltre alla maxi-sanzione da oltre 5.500 euro. Si tratta di un 64enne della provincia di Treviso, fermato dalla polizia locale dopo una fuga a gran velocità per le vie del centro storico di Vicenza. Tutto è successo domenica pomeriggio, quando incontrà Vittorio Veneto. Gli agenti hanno notato l'uomo che guidava l'auto senza cinture di sicurezza. All'alt degli agenti si è dato alla fuga e di lì è partito l'inseguimento. Folle, a sirene spiegate, da Contra a Ponte Pusterla fino via Le Grappa e Contromano in via Valleggio sul Mincio, inseguito dalla pattuglia, fino in via Peschiera, quando l'uomo ha tentato una brusca manovra per cercare di sfuggire agli agenti, speronando in retromarcia l'auto di servizio. Fermato e identificato è risultato senza patente perché è revocata per violazioni al codice della strada. Oltre alla denuncia, per lui è scattata anche la sanzione, per non essersi fermato all'alt, per le manovre pericolose e l'alta velocità, oltre che per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. L'uomo è stato segnalato all'autorità giudiziaria per la confisca dell'auto. Ora parliamo di occupazione. Giovedì, tavolo istituzionale e sindacale a Longarone sulla crisi Saffilo, tema su cui è intervenuta l'assessore regionale al lavoro Dona Zan. Deve restare a Longarone, la Saffilo dice. Noi abbiamo chiesto a Saffilo un ripensamento rispetto a queste strategie, evidentemente, perché è un'azienda importante, perché è importante che resti lì, è importante che resti in Italia, ovviamente, dove ha garantito che resterà. Noi abbiamo altri due stabilimenti che ci riguardano, quello di Padova, che è più logistica, e quello di Santa Maria di Sala. Però Longarone, come dicevamo, è il centro dell'occhialeria, e quindi quel grande stabilimento ha bisogno di essere rianimato, che ci si porti produzioni. A Saffilo, diciamo, ripensa al tuo perimetro, guardiamoci attorno per fare in modo che i lavoratori, se c'è da alleggerire ancora, se c'è da fare qualche altra scelta, trovino gli spazi di un accompagnamento veloce, ma sediamoci a un tavolo e ragioniamo insieme. Questo è quello che abbiamo detto a Saffilo. La soprintendenza di Venezia ha dato il suo parere favorevole alla realizzazione del collegamento sciistico tra il Comelico e la Pusteria. Ci sono voluti vent'anni di attesa e un'infinità di difficoltà da superare per ottenere il via libera al progetto, che apre una prospettiva di sviluppo turistico per le terre alte. L'intervento, oltre all'impianto sciistico vero e proprio, prevede la valorizzazione della linea di confine tra l'ex Repubblica di Venezia e il Tirolo asburgico, oltre alla realizzazione di una serie di progetti culturali che riguardano tutti i comuni del Comunico. È tutto, grazie per averci seguito. Come sempre ora l'edizione di Venezia, ma prima le previsioni del tempo. Una buona serata, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. Alta pressione delle azzorre sull'Italia. A febbraio esordirà con tempo stabile e clima un po' meno freddo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di mercoledì vedrà un ampio soleggiamento, precipitazioni assenti. In pianura maggior probabilità di formazione di foschie o locali banchi di nebbia, specie nelle ore più fredde. Altrove cielo sereno o velato. Temperature senza variazioni di rilievo, minime tra 1 e meno 3 gradi, massime invece comprese tra i 5 e i 7 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole con cielo variabile, aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata, estese gelate in pianura, verso sera possibili nebbie o foschie su pianura e costa. Temperature minime tra meno 1 e 2 gradi, massime sui 6-10 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà molto soleggiato, vedete con addensamenti specie sui settori più settentrionali della regione. Temperature minime intorno allo zero o di poco inferiori, massime sui 10-11 gradi. Dal Meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.